Musica Amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati all'ascolto di Casa Rossini. Siamo tornati con questa nuova edizione, con questa seconda stagione, una stagione che chiameremo Slim perché è una stagione impostata in maniera leggermente diversa rispetto alla prima. In ogni puntata avremo un ospite con il quale faremo una bella chiacchierata, la trasmissione va in onda tutti i giorni, prima messi in onda alle 19 ma poi a seguire con un numero altissimo di repliche per cui ci troverete sicuramente e troverete l'orario più consono alle vostre esigenze. Per questa prima puntata della seconda stagione abbiamo voluto con noi un amico di Casa Rossini, di Rossini TV e anche possiamo dirlo ormai personale, Maurizio Rali. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Paolo e grazie dell'invito. Finalmente siamo di nuovo qua per una nuova stagione, sperando in un inverno migliore rispetto a quello passato. Ce lo auspichiamo tutti, ce lo auspichiamo sicuramente tutti, in realtà poi non ci siamo mai persi perché anche se Casa Rossini ha concluso il suo primo ciclo a fine maggio poi noi abbiamo continuato a seguire le tue attività, le tue vicissitudini attraverso le attività sportive, attraverso tutto quanto e soprattutto attraverso tutto quello che ruota intorno all'apertura di questo nuovo centro di cui parliamocelo sinceramente, tutta la città parla e c'è poco da dire insomma. Ma Paolo, se tutta la città parla sono contento perché vuol dire che probabilmente abbiamo realizzato un qualcosa di importante. Naturalmente come ho già detto ancora precedentemente con qualche tuo collega, siamo partiti ma ancora come diciamo in gergo ciclistico, visto che qua veniamo sia per lavoro che per sport, non siamo a tutta, ci stiamo organizzando, piano piano, giorno dopo giorno stiamo mettendo un tassello su tutte le nuove attività e quindi speriamo che da qui a fine novembre tutto il nuovo figiorale di medical center sia operativo a 360 gradi. Comunque possiamo dire che ormai siamo arrivati a un buon 90%, tutti i servizi nuovi sono partiti, le visite mediche specialistiche con i nuovi medici che abbiamo inserito e finalmente siamo riusciti a far partire anche tutta la diagnostica. Quindi posso dire che sono soddisfatto e adesso spero che la città non solo parli ma la città risponda. Noi abbiamo imparato ad apprezzare, a conoscere, ad apprezzare il tuo perfezionismo e quando tu dici che non è tutto a posto ci immaginiamo veramente qualche virgola e qualche punto esclamativo perché già dall'inaugurazione del 18 settembre avevamo visto un centro che ha lasciato tutti a bocca aperta. Quello che mi ha colpito molto era appunto la cura dei dettagli, la cura dei particolari sia per quanto riguarda tutto il discorso dell'inaugurazione che è stata probabilmente diventa un esempio per chi vuole descrivere come va fatta un'inaugurazione ma anche poi tutta la cura dei dettagli particolari all'interno del centro. Posso dirti che la cosa che mi ha colpito di più per esempio, sai cos'è? È stata l'aver scelto di separare il front office, cioè il momento dell'accoglienza, dalla parte del centralino che potremmo chiamarlo così ma non è centralino, dalla parte della raccolta delle chiamate, delle mail e tutto il resto tenendo separate e io ci ho visto molto la voglia di avere il massimo rispetto nei confronti del paziente, ho visto bene? Sicuramente sì Paolo, sei visto giustamente come dici tu, abbiamo separato l'accoglienza dalle telefonate ma oltre che abbiamo separato l'accoglienza dalle telefonate abbiamo fatto un'accoglienza diversa da quello che è stata l'accoglienza fino ad oggi in quasi tutti i posti ti ritrovi che arrivi e trovi un'accoglienza dove c'è un distacco con chi ti accoglie c'è magari un banco alto, la ragazza seduta, tu in piedi e questo crea allontananza invece abbiamo fatto un front office dove la persona che arriva si accomoda, si siede e quindi parla come stiamo parlando io e te così alla stessa altezza e questo proprio per far capire che noi vogliamo dedicare tempo alla persona la persona viene lì, viene accolta e ha il suo tempo e oltre a una questione diciamo di poterti sedere quindi poter parlare così apertamente, giustamente come dici tu, abbiamo dovuto togliere quello che è il telefono perché sai benissimo che il telefono è un mezzo di disturbo, quindi se arriva una telefonata non puoi non rispondere perché chi dall'altra parte fa squillare il telefono dopo magari 3-4 squilli dicono non rispondono e quindi chiude oppure se rispondi naturalmente la persona che è lì davanti deve aspettare che tu concluda la tua telefonata e devi capire che da noi delle volte le telefonate sì possono essere brevi ma non sempre perché delle volte succede che chiama la persona che è a casa, che sta male, che ha una serie di problemi e vuole capire come si deve muovere e quindi questa è stata una scelta studiata nel tempo, studiata dall'esperienza magari passata ormai negli anni con un front office che in certe situazioni si trovava in difficoltà perché magari c'erano 3 ragazzi al front office se io uscivo dal mio ambulatorio per andare a chiedere una cosa arrivavo lì erano tutte tra il telefono e davanti avevano 3 persone quindi questo mi ha fatto pensare di dover proprio cambiare strategia totale può sembrare un dettaglio invece considerando che stiamo parlando in entrambi i casi sia del front office che del e io continuo a chiamarlo centralino ma in realtà arrivano le mail, arriva anche altra roba diciamo sono i due momenti di attacco, di approccio per cui sicuramente c'è un'attenzione particolare ci ho rivisto un po' la mia esperienza negli alberghi, la reception dell'albergo è il momento in cui chi arriva chi si approccia ha la prima impressione e quella prima impressione deve essere la prima impressione vincente non solo perché così cattura l'attenzione ma anche perché dà subito l'idea di cosa c'è poi dietro e in più ci vedo anche molto rispetto nei confronti del personale sì rispetto del personale perché come dico sempre come ho detto anche nell'inaugurazione quando sono stato intervistato da voi è vero che crei una macchina e vuoi cercare di creare una macchina magari perfetta non sempre ci si riesce ma perlomeno ci si mette impegno per crearla oppure come dicevano hai creato questa bellissima struttura con tanti servizi è vero sicuramente Maurizio Radi ci ha messo la mente, Maurizio Radi è stato aiutato da altre persone ma perché tutto funziona devi far lavorare bene i tuoi dipendenti, i tuoi collaboratori e quindi nel creare la nuova struttura questo è stato il mio primo obiettivo cercare di metterli in condizioni di poter dare il massimo e se non fai questo e se non crei un team ad alto livello poi puoi avere una Ferrari ma non vince il mondiale e questo è sicuramente una formula che chiarisce bene qual è l'approccio io ho seguito la prima puntata di un'altra cosa che stai facendo con Rossini TV che si chiama Check Up Obiettivo Salute nella prima puntata ti sei raccontato al microfono di Rossini TV e hai parlato di questo Maurizio Radi di 30 anni fa c'è qualcosa che in qualche modo fa ritornare quell'idea soprattutto nel fatto che per caso, ma il caso dice un mio amico non esiste la tua nuova sede si trova a poca distanza dalla sede originaria del primo centro del tuo primo ambulatorio, chiamiamolo così e invece adesso si torna in tutt'altro modo e si torna con 30 anni di esperienza però ti ho sentito sottolineare più e più volte che sei lo stesso di 30 anni fa sì perché come dici tu sono ritornato vicino al mio primo ambulatorio io non lo chiamerei nemmeno ambulatorio perché quando ho iniziato ho iniziato togliendo il tavolo della cucina e mettendo un lettino dentro la cucina dove abitavo con i miei genitori siccome avevamo due cucine, uno in appartamento e uno nella mansarda la cucina dell'appartamento ormai non veniva più usata io per fare i miei primi pazienti ho iniziato così poi da lì paziente su paziente poi come ho sempre detto la fortuna di essere entrato a lavorare in un settore sportivo professionistico con tanti altri professionisti questo mi ha dato una grossissima carica sia da un punto di vista personale che professionale e poi come tutti sanno l'apertura del vecchio Fisioradi e oggi ritornare sicuramente nel mio quartiere a poche centinaia di metri da dove abito e aver realizzato questa cosa è sicuramente un grosso piacere un grosso sogno realizzato però sì, il vecchio Maurizio Radi è ancora oggi lì che lavora e con quella passione, quell'entusiasmo e quella voglia che ho avuto per tutti questi anni a me piace stare, come si suol dire, sul pezzo sono lì, si può dire, tutto il giorno e ancora mi piace molto il mio lavoro quindi io dico che oggi, come è capitato a me possono ancora tante persone potersi realizzare professionalmente l'importante è avere piacere, passione e voglia di andare avanti di impegnarsi perché niente viene per caso l'altra sera in una conferenza dove si parlava un po' di coaching e di stimoli da un punto di vista comunicativi, mentali giustamente una persona ha fatto un esempio di Mozart che è stato il più grande talento a livello musicale e la parola talento non piace tanto perché il talento per me e per tante altre persone di questo settore possiamo dire non esiste cioè Mozart è diventato Mozart perché è cresciuto a pane e musica da quando era bambino e addirittura c'è stato un esempio dove in Giappone hanno preso 24 bambini da piccoli e gli hanno fatti crescere tutti a pane e musica e sono diventati tutti grandissimi musicisti questo solo per dire che sicuramente si può fare tanto nella vita personale e professionale se ci si mette veramente a cuore e passione Bene e questo sicuramente ti viene riconosciuto quotidianamente sono sicuro da tutti quelli che frequentano il tuo centro da tutti quelli che lavorano con te e che in questo periodo sono stati anche più del solito perché nell'allestimento hai coinvolto naturalmente tante altre realtà con le quali non hai un rapporto quotidiano dagli allestitori ai tecnici a tutti quelli della tecnologia applicata con i quali hai ancora ovviamente delle cose da sistemare insomma sicuramente hai dovuto gestire e allargare un cantiere umano molto ampio in questo secondo me ti ha aiutato anche questa tua vocazione sportiva perché l'idea di avere un ruolo nell'ambito sportivo come tu hai noi ci siamo conosciuti tra l'altro per vie traverse nel senso che noi ci siamo conosciuti attraverso una trasmissione che era una trasmissione di bicicletta nella quale io ne sapevo poco e niente ma mi avete aiutato a diventare conduttore di questa trasmissione e sono convinto che il mondo dello sport sia una grande scuola soprattutto se uno riesce a trarre tutti gli insegnamenti necessari a gestire poi i rapporti umani e nel mondo dello sport tu sei speciale perché stai seguendo degli eventi speciali abbiamo seguito insieme noi con le telecamere te ovviamente come organizzatore le imprese di Zico Pieri, di Enrico Tiberi altre cose che sono in cantiere insomma c'è tutta un'altra parte di Maurizio Radi che però si integra in maniera netta con quello che è la tua attività hai detto giustamente Paolo sport, lavoro, passione sport lavoro e passione come vedi sono tutte cose che possono viaggiare insieme io ho iniziato a fare attività sportiva che avevo sette anni quindi da sette anni con difficoltà in certi momenti ma come dico sempre noi le difficoltà le dobbiamo cercare di trasformare in opportunità però quella è stata una scuola di vita perché sai andavi a scuola tornavi da scuola ti dovevi allenare tornavi da allenamento dovevi studiare e quindi già da piccolo cerchi di riuscire a organizzare nel miglior modo possibile la tua giornata poi a scuola avevi un insegnante nel mondo dello sport un allenatore a casa e genitore quindi tutte figure che ti potevano passare esperienza e stimolare in quello che facevi ma soprattutto figure dove vedevi persone che avevano voglia che tu crescessi in base a dove eri posizionato e questo per me è stata una grande esperienza sono arrivato a gareggiare diciamo fare attività agonistica fino a 20 anni e posso oggi dire di ringraziare da una parte i miei genitori che mi hanno fatto iniziare a fare attività sportiva da piccolo ma anche tutte quelle persone che ho trovato negli anni come allenatori dirigenti nell'ambiente sportivo io ritengo che per chi fa sport da piccolo, da adolescente sicuramente è un insegnamento di vita poi finito l'attività sportiva perché come tutti sanno insomma a 18 anni ho avuto un infortunio quindi mi si è aperto questo mondo della fisioterapia che mi ha un po' illuminato in modo diverso e dopo aver fatto fisioterapia fortunatamente il primo lavoro è stato sempre nell'ambiente sportivo dove ho lavorato per tantissimi anni e dove questo mi ha fatto continuare a crescere quindi ritengo che per tutti i ragazzi sia importante da giovane fare sport perché nello sport impari a relazionarti con altri ragazzi magari della tua età ma con tante altre persone che hanno ruoli diversi che ti possono insegnare tanto quindi sicuramente ancora oggi sono legato allo sport da un punto di vista lavorativo ma anche da un punto di vista passione perché lo pratico a livello amatoriale perché mi piace, mi fa stare bene con me stesso ma mi serve anche perché magari ho bisogno delle volte di fare due o tre ore di fatica perché forse la fatica è l'unica cosa cioè la fatica fisica che mi fa staccare mentalmente magari da tutti i pensieri che ho durante la giornata e dal lavoro e quindi abbiamo avuto un po' di pausa con questo Covid sicuramente con alcuni avvenimenti ma siamo già lì a progettare per dire venerdì sera abbiamo fatto una serata con come dicevi giustamente tu con Zico Pieri che non è solo uno che fa avvenimenti 80 certe imprese sportive ma un mental coach quindi per far iniziare a conoscere questo tipo di professionista sabato mattina abbiamo fatto una pedalata se tutto va bene abbiamo già in cantiere qualcos'altro o tra entro questa settimana dovremmo tirare fuori un altro evento prima di Natale mi dicevi che l'attività sportiva sta ampliandosi diciamo una volta c'erano due compartimenti stagni abbastanza separati da una parte l'agonismo vero e proprio e dall'altra il turista della domenica che prendeva la bicicletta si vedevano davanti al bar e andavano a fare la pedalata adesso questi due mondi si intersecano un po' pur essendo comunque sempre due mondi diversi perché quello dell'agonismo prevede i tesseramenti, le gare e tutto il resto però si intersecano perché? perché nell'ambito del turismo sportivo cominciano a nascere delle manifestazioni delle iniziative che hanno anche qualcosa a che fare con il turismo, con lo sport sono delle imprese ma tutto sommato alle volte non competitive insomma comincia a esserci un certo collegamento tra i due mondi c'è tanto collegamento, tanto collegamento basta solo a pensare che oggi tantissime persone vanno in bicicletta, pedalano, fanno cicloturismo e fortunatamente viviamo in un territorio dove è bellissimo c'è poco da dire quando vengono non solo gli stranieri ma quando vengono qua anche persone, amici da altre parti d'Italia rimangono meravigliati da come abbiamo un territorio vario e da come possiamo pedalare per dire in pianura oppure in collina ma guardando il mare o a pochi chilometri andare a trovare delle montagne quindi questo è bellissimo finalmente sono riusciti anche chi lavora nell'ambito turistico tipo albergatori a capire l'importanza di investire sulla bicicletta, sul ciclismo, sul cicloturismo basta solo pensare che una regione come le Marche ha preso come testimonia delle Marche Vincenzo Nibali quindi per far capire che oggi la mentalità si è aperta tanta e questo naturalmente porta sempre più persone a praticare e sempre più persone che poi quindi hanno bisogno di essere seguite ma non solo perché devono andare dal preparatore o devono farsi seguire perché devono avere delle prestazioni performanti ma perché oggi poi le persone che fanno sport vogliono star bene quindi oggi lo star bene significa fare attività sportiva ma delle volte per fare attività sportiva bisogna star bene e quindi alcune figure che non sono strettamente la figura medica dove mi reco perché mi sono fatto male ma oggi per dire puoi andare dal nutrizionista per cercare di capire come alimentarti meglio e per star bene e come puoi andare dal preparatore atletico per farti dare dei consigli per non ammazzarti magari nella prima uscita o nelle prime uscite in bicicletta che come si vuol dire poi ti viene la voglia di appendere la bicicletta al chiodo i giusti consigli ti possono portare a fare una buona attività e a farti divertire per dire noi siamo andati su sullo steglio a incontrare Zico quando faceva la sua performance diciamo su e giù per lo steglio e sono riusciti a fare per dire la scalata dello steglio persone che non avevano una grandissima preparazione però consigliate bene e fate andare su col giusto passo in tranquillità sono arrivati in cima allo steglio quindi oggi ci si può veramente divertire e un'altra cosa per dirti di quanto si sta sviluppando questo mondo quest'anno alcune regioni hanno chiuso le strade magari in salite importanti una volta al mese per permettere alle persone di poter fare magari lo steglio a strade chiuse oppure il passo Gardena a strade chiuse oppure la salita del Mortirola a strada chiusa e quindi come vedi tanti hanno capito l'importanza oggi di investire nel turismo, nello sport e nello sport abbinato al turismo esatto, in questo dobbiamo dare atto al nostro sindaco che è stato lungimirante perché ha chiuso la strada panoramica la domenica mattina all'inizio, nello sconcerto dei più poi in realtà ha solo aperto una via perché tanti altri lo stanno facendo con strade ben più blasonate e ben più rilevanti nell'ambito proprio del circuito nazionale Maurizio, il tempo è volato io ti ringrazio per essere stato qua a tenere a battesimo la nuova edizione di Casa Rossini naturalmente per te la porta è sempre aperta perché abbiamo sempre tante cose da raccontarci e tu hai sempre tante novità da riferirci invitiamo tutti a seguire il tuo programma Checkup Obiettivo Salute e a seguire comunque attraverso i nostri notiziari ma anche attraverso i social tutte le attività interessanti che stai portando avanti e che come so e come sono certo non mancherai di comunicare alla nostra redazione e a noi di Casa Rossini io Paolo ringrazio te, ringrazio Rossini TV e come hai detto giustamente te consiglio a chi ci ha ascoltato di seguire il programma perché ogni medico verrà intervistato su una patologia e quindi è un programma dove puoi dare tante informazioni naturalmente augurando tutti di stare bene però noi ci siamo per chi ha bisogno e quindi vi ringrazio di nuovo per questa intervista ricordiamo che Checkup Obiettivo Salute va in onda il lunedì sera alle 21.20 in prima messa in onda poi a seguire alle 23.15 e poi con altre 10 repliche nell'arco della settimana che segue bene, grazie a tutti per essere stati con noi restate sempre a seguire i programmi di Rossini TV e non mancate nessuna delle prossime puntate di Casa Rossini nuova versione seconda stagione grazie ancora, a presto grazie a tutti